Ciao ragazzi e ragazzi, al Festival di Sanremo 2020 succede proprio di tutto. Parliamo dell'incidente successo a Sabrina Salerno, proprio in diretta. Amadeus annuncia il suo ingresso. Un'artista italiana conosciuta in tutto il mondo. Si è esibita allo Stadio di Parigi davanti a 50.000 persone. Stasera è qui, signore e signori, Sabrina Salerno. Sabrina Salerno sfoggia un abito nero lungo, che mette in primo piano un décolleté e uno spacco che attira l'attenzione della platea dell'Iston. Ma la sua discesa per la gradinata appare subito un po' incerta, tanto che uno dei tacchi si impiglia in un gradino della scalinata. Mi si è incastrata la scarpa, dice, sorridendo Sabrina Salerno. Amadeus corre subito in suo aiuto e scendono gli ultimi gradini insieme. Sono felicissima di essere in questo teatro stasera, anche se in questo momento di grande emozione ho un crampo al piede. Sto morendo, afferma Sabrina. Così vorrebbe togliersi le scarpe, ma non si sentirebbe a suo agio. Così prende la decisione più giusta e riferendosi al suo crampo afferma sorridendo. Me lo tengo e facciamo finta di niente. Il palco dell'Ariston è il posto dove sono incominciati i suoi sogni. Vedete, tutti quei cantanti la facevano sognare, ma di certo in tutta la sua vita non avrebbe mai pensato di fare questo. E con il suo entusiasmo dichiara di essere doppiamente felice e doppiamente emozionata. Io concludo qui. Commentate pure l'accaduto. Adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye! Ciao!